ciao a tutti benvenuti allora oggi abbiamo tante cose da vedere quindi partiamo subito con la novità della giornata abbiamo la nostra tonale ora in versione anche plug in e quindi va ad implementare quella che la gamma dell'auto della nostra tonale con una versione molto potente una plug in significa che ha un motore a benzina affiancato a un motore elettrico quindi sono due motori uno che spinge sulle ruote posteriori l'elettrico e l'altro sulle ruote anteriori possono andare appaiati possono funzionare anche in modo separato quindi una tecnologia molto avanzata sono 280 cavalli quando funzionano tutti insieme quindi una 4x4 280 cavalli e una versione veramente spettacolare con dei cerchi inediti fino ad oggi ma approfondiremo più tardi perché più tardi faremo la grande prova c'è una grande prova vettura quindi passiamo ad altro cosa rosso il rosso che a me piace sempre rosso alfa questa non diciamo il prezzo perché è una sorpresa per il sabato è appena arrivata ieri chi vuole sapere il prezzo deve entrare in concessionaria la mia nuova strategia di vendita questa è una versione diesel non dico neanche i cavalli non diciamo niente ma è veramente stupenda quindi fai proprio una carrellata veloce perché qua nell'angolino per i clienti che sono intenzionati a Stelvio ricordo a tutti che è costruita sulla piattaforma Giorgio dove costruiscono la Maserati Levante quindi è un valore aggiunto alla vita è una macchina veramente ottima che ci stiamo facendo una strage di Stelvio perché veramente è una macchina eccezionale è la vettura da provare da provare chi prova alfa Stelvio si rende conto che la differenza con le altre vetture è abissale come anticipava Marco un telaio unico che si invidia a tutto il mondo e che spesso noi non sappiamo valorizzare Maserati ha adottato lo stesso telaio creato per Alfa Romeo per tutti i nuovi modelli che ha fatto quindi parliamo di eccellenza lo stato puro tenete presente che lo stesso telaio porta fino a 510 cavalli nella versione quadrifoglio verde quindi quando poi abbiamo una vettura da 150 200 160 200 cavalli è un telaio che ci va a nozze con una potenza simile quindi sottodimensionato addirittura il motore rispetto a un telaio che può portare molti più cavalli andiamo un po' alle jeep che abbiamo fa la carrellata di queste jeep che quando ho metto posto queste vetture sono gioielli praticamente stiamo preparando il salone perché stiamo vendendo stiamo spostando perché strano ma vero gennaio è partito veramente alla grande stiamo vendendo bene con quella novità che inizia con la E che poi finalmente diremo poi arriveremo anche a questa ultima novità qui abbiamo come vedete diverse jeep abbiamo renegade nella versione diesel per chi è più tradizionalista e vuole ancora un motore tradizionale ma anche per chi fa parecchi chilometri ne abbiamo affrontato diverse volte l'argomento in questo momento ancora forse le vetture elettriche non sono pronte ad affrontare i servizi che vengono richiesti da chi sulla vettura ci lavora tutto il giorno 40 50 mila chilometri all'anno se non di più e quindi il diesel ha ancora è ancora protagonista per queste persone quindi abbiamo versioni diesel ma abbiamo anche versioni benzina per chi invece fa pochi chilometri e versioni plug-in e plug-in esatto doppio motore termico come quello della tonale per chi appunto magari la utilizza quotidianamente poco ma spesso poi si fa dei viaggi magari nei weekend allora abbiamo la possibilità di usarla tutti i giorni in elettrico fino a 40 50 chilometri dipende se estate o inverno e invece d'estate si possono esaurite la carica elettrica si va col motore benzina e si possono affrontare anche viaggi più lunghi e di queste appunto abbiamo qui ne vedete alcuni campioni ma ne abbiamo in casa parecchie abbiamo fatto una bella scorta di auto come poi potete vedere passando dai nostri piazzali sono tutti belli pieni di prodotto da offrirvi esatto avevamo una bella stevia nuova ma purtroppo sauro ce l'ha venduta e quindi non possiamo dire la verità ce ne erano quattro tutte vendute questa è l'ultimo gioiello che è arrivato dalla preparazione praticamente una vettura q4 del 2020 versione sprint 190 cavalli a 39 e mezzo più il passaggio questa è una vettura veramente eccezionale è un po veloci perché abbiamo tanta roba da far vedere e se si fermiamo all'esterno di queste pur avendo le vendute tre o quattro abbiamo ancora in preparazione abbiamo ritirato uno stock abbastanza importante quindi c'è anche una certa scelta di colore bianco grigio scuro nero forse c'è ancora qualcosa sono vetture poi che mano a mano che arrivano le mandiamo a fare sanificare gli interni a fare lucidare gli esterni quindi poi vengono pronte poi in modo scaglionato una carrerata veloce anche se ancora un po presto ma vi ricordiamo perché la primavera poi ci mette poco ad arrivare purtroppo il tempo passa quindi ricordatevi che abbiamo anche il super soco sono dei degli scooter elettrici vogliamo credere appunto anche in questo tipo di spostamento e secondo me sullo scooter è particolarmente interessante fermati su questo listino facciamo un esempio veloce 2.090 con gli sconti incentivi 1.404 euro allora chi ha camper chi abita vicino alla città chi vuole anche essere magari lavora che lavora sono 60 chilometri di autonomia comunque sia uno non fa più benzina che ecologico che piuttosto che un bono pattino che non è sicuro e quant'altro qui con casco e patentino avete questa vettura a 1.400 euro avete presente che arrivati sul posto di lavoro in ufficio o dove state andando potete togliere la batteria portarvela in ufficio mettere sotto carica e ripartire con la batteria in carica sarà il futuro insomma un po' come si fa con i telefonini si può fare anche con lo scooter esatto quindi viaggiare green al cento per cento carrellata veloce abbiamo diverse 500 cabrio del 2021 sui 17 e mezzo andiamo a fare due passi abbiamo questa bellissima kuga una delle ultime rimaste benzina per gli amanti del benzina 120 cavalli del 2019 st line a 21.900 euro per cambio manuale questa è venduta questa è venduta al 99 per cento si è venduta peccato perché veramente è un capolavoro è la versione estrema della della stelvio ed era bella anche solo da tenere qui in vetrina vedete cerchi da 21 carbonio carbonio ovunque uno spreco di carbonio interni pelle e alcantara tutte le cuciture rosse è veramente un capolavoro bellissima auto complimenti a chi ha acquistato diciamo che è una quadrifoglio col motore diesel ecco io lo dico sempre così fondamentalmente richiama molto la quadrifoglio e la quadrifoglio è una stelvio col motore ferrari è tutto un po collegato amo quella macchina andiamo a trovare le nostre amiche che amiche per modo di dire insomma fai una carrellata sul piano fca che abbiamo 500 x panda y e panda e diverse in arrivo perché le panda le 500 x la 500 l abbiamo sempre qualcosa sempre nella gamma fiat come anche lancia un solo modello ma fiat tutto ciò che era ex fca qui è di casa abbiamo un'offerta per qualsiasi tipo di modello abbiamo persino una abart non so se poi è stata venduta venduta dal nostro venditore non facciamo in tempo a presentare le auto che sono già vendute comunque arriveranno altre e quindi abbiamo una certa scelta grip alfa lancia fiat però si stanno aggiungendo anche gli altri marchi del gruppo stellantis quindi pegeot citroen cominciano arrivare parecchie vetture anche di questi di questi brand opel abbiamo delle opel che poi vediamo andiamo avanti intanto con ford visto che siamo in zona ford ecco purtroppo avevo qua solo tre ford perché sono andate via tutte questa settimana ma sono in preparazione delle altre che tra breve sicuramente nella prossima diretta vedrete di più ci sono rimaste delle fiesta sono rimaste delle focus sia station che anche station ecco vi ricordiamo che alcune vetture sono anche a chiari dove abbiamo un'altra sede abbiamo Renzo e Simone che vi aspettano per un caffè farvi vedere un po di auto diciamo che anche la ovviamente abbiamo parecchie vetture quindi quelle che vedete qui sono una parte di tutte quelle che abbiamo a disposizione altre le abbiamo ancora nella sede in centro altre da rivenditori che abbiamo fidelizzati e insomma di auto ce ne sono ne abbiamo parecchie abbiamo di qua anche questa chicca volevo fare una carrellata qui ah sì giusto giusto perché la nostra fatica economica deve essere riconosciuta altra novità anno nuovo vita nuova cominciamo finalmente dopo due anni di attesa avevamo fatto lo showroom e poi è arrivato di tutto è arrivato covid ma sì la guerra sono arrivate tante purtroppo tante brutte notizie esatto la carenza di vetture che abbiamo dovuto affrontare finalmente si riparte fiduciosi da dei segnali che il mercato sta dando ultimamente e sperando che di poter avere altre buone notizie nel tempo abbiamo cominciato a investire per lo spostamento dal centro della vecchia sede della nuova sede insomma completare la sede nuova stiamo lavorando sugli uffici eccoli qui presto ci saranno qui le nostre ragazze il nostro back office a seguire ci saranno le revisioni abbiamo già cominciato i lavori anche per il nuovo lavaggio e per ultima l'officina assistenziale dove metteremo diversi marchi ci sposeremo a diversi marchi ma stiamo appunto aspettando perché non ci sono ancora gli standard ci devono dire come dobbiamo impostare questa officina quindi cominciamo con tutto il resto e concluderemo con quella si presume che entro fine anno avremo trasferito tutto e quindi finalmente è un lavoro duro un lavoro di progetto un lavoro che come abbiamo parlato delle altre dirette diventerà un centro commerciale dell'auto qua troverete un po' di tutto e in più troverete anche l'officina con diversi ponti con diverse assistenze vogliamo diventare veramente una cosa unita una realtà esatto non dimentichiamo che noi veniamo dall'assistenza come il nostro nonno cominciò come meccanico mio padre ha fatto il capo vicina fino fino a quando mio nonno è andato in pensione quindi abbiamo proprio nel DNA l'assistenza e ci vogliamo credere molto metteremo oltre a vari brand è un'officina che basta guardare le dimensioni sarà sicuramente importante metteremo il centro gommista che rinnoveremo il centro gommista con nuove attrezzature e così via le revisioni ovviamente e stiamo ragionando anche se ampliare ad altre cose ad altri orizzonti esatto esatto quindi aspettatevi grandi cose anche perché qui in zona di uffici autorizzati ormai ce ne sono ben poche quindi andremo a completare il quadro andiamo a vedere qualcosina allora Citroen l'ultima rimasta qua ci vuole un pesetto per i documenti ma la macchina c'è 1500 hdi 100 cavalli 18.900 euro più il passaggio con 24.400 chilometri del 2020 ecco vorrei sognare che noi abbiamo fatto i prezzi sul nostro sito almeno 1000 cosa vuol dire meno 1000 se fate un finanziamento almeno di 10.000 euro almeno di 6 anni di durata potete usufruire del meno 1000 quindi il prezzo reale che vedete su internet aggiungendo il passaggio se voi non fate il finanziamento meno 1000 bisogna aggiungere 1000 euro al prezzo che vedete 1000 anche 2000 dipende dopo dalle macchine dipende che tipo di finanziamento diventa dagli importi esatto è scritto tutto sulle nostre sui nostri annunci ma canelli for you vuol dire finanziamento obbligatorio e in parte c'è scritto se in caso uno non fa il finanziamento obbligatorio perché non vuole spendere soldi di interesse perché scusate non vuole finanziamento c'è scritto il prezzo in parte aggiungendo il passaggio finito ribadiamo come ci teniamo sempre a fare che non è obbligatorio volete farlo è un servizio che vediamo volentieri a chi conviene certo vediamo anche perché dentro il finanziamento puoi mettere tutti i servizi e poi dormire sonni tranquilli per tutta la durata del finanziamento con garanzia con furto incendio che ti copre qualsiasi cosa franchiglia azzerate insomma addirittura casco se siete interessati ma non è obbligatorio come tanti fanno ormai quasi tutti e noi invece preferiamo sempre lasciare al cliente la scelta quando tu mi hai detto ma come mai questo sabato hai tratto così tanta gente come mai da lunedì a oggi così tanta gente perché magari abbiamo parlato anche bene forse forse si riconoscono anche una certa onestà adesso non possiamo fare per sempre e trasparenza andiamo a vedere altri prodotti che poi ci sarà una sorpresa che finalmente è una new entry femminile abbiamo anche le Opel quella bianca venduta da mia amica la Opel quella venduta da Ronato questa praticamente è una Crossland del 2021 GS Line se non leggo male ha con 20 mila euro avete la mano un bel SUV della Opel con 12 mesi di garanzia del 2021 diesel in arrivo anche delle corsa queste le abbiamo disponibili arancio bianche benzina insomma quello che vi dicevamo prima stanno arrivando anche le versioni le ex PSA insomma le vetture ex PSA quindi Citroen, Opel e Peugeot ne stanno arrivando morale abbiamo un anno di attesa su certe autovetture abbiamo 7 mesi di attesa su certe vetture slittano le consegne qua quello che vedete al massimo un mese al massimo due giorni ripeto dipende dalla macchina ma la macchina ci sono le macchine dipende se abbiamo in caso di documenti o no ma appunto si arriva in alcuni casi limite al mese ma normalmente nell'arco di una decina di giorni possiamo già consegnarvi la vettura dipende anche ovviamente se è appena arrivata deve ancora andare in carrozzeria oppure se è già però sono tempi distretti tempi due settimane al massimo una roba del genere contro consegne del nuovo che ahimè vediamo anche con Alfa si stanno allungando parecchio e altri brand li hanno ancora più lunghi qui si parla ormai di un anno un anno e mezzo 440 giorni per una vettura tedesca che non faccio nomi per correttezza 440 ha distretto il contratto perché fa passa la moda è arrivata la macchina e scegliamo il modello nuovo quando arriva la macchina allora finiamo la scarrellata di vetture beh io farei vedere questa bellissima Jeep Compass rosso e nera bella molto 1620 cavalli per gli amanti del manuale 2019 non è 4WD normale 43.500 chilometri tagliandata lucidata preparata a 25.500 euro ecco ecco tutte le vetture escono di qui con tagliando ovviamente ma anche garanzia sanificazione e se vi può interessare possiamo siccome le vetture sono ovviamente siamo sappiamo cosa vendiamo possiamo darvi una garanzia che va anche oltre accordiamo il prezzo e arriviamo fino a tre anni di garanzia se non sbaglio sull'usato dipende poi dai casi però potete veramente coprire con una lunga garanzia l'auto e quindi considerarla poi come una vettura nuova vado a chiamare la esatto andiamo a chiamare l'ospite della serata perché le sorprese non finiscono mai intanto come potete vedere vi riassumo le ultime vetture 500L e abbiamo le fiat tipo in varie versioni ecco una bella carrellata sotto la neve delle vetture che abbiamo a disposizione di una parte delle vetture altre vi ricordo le abbiamo la sede di chiari anziché in centro e altre ancora sul retro della nostra sede potete vedere appunto fiat tipo renegade lancia y ne abbiamo veramente diversi in vari colori e in varie versioni ma è il momento dell'ospite venite con me andiamo dall'altra parte del nostro showroom ed ecco qua michela abbiamo ormai ci ha preso gusto quindi perché toglierle questa il divertimento vi presentiamo il bellissimo evocross e 4 4 per 4 di serie full optional a 2000 turbodiesel 136 cavalli come vedete l'interno spettacolare in ecopelle che dispone di apple carplay e android auto ha di serie anche la telecamera posteriore pedane cerchi in lega e quattro colori metallizzati di serie tutto incluso nel prezzo il mezzo può essere anche intestato a privati e ovviamente alle aziende per scaricare poi il 100 per cento dell'importo che è di 24 580 più iva più ipt e ragazzi anche gli 80 euro ovviamente le vetture che abbiamo sono tutte in pronta consegna comprese le evo 3 prossime in arrivo fantastiche gpl e anche elettriche le quali usufruiranno dell'incentivo statale quindi anche queste saranno in pronta consegna vi aspettiamo numerosissimi perché poi faremo una grandissima presentazione esatto allora praticamente da ieri siamo ufficiali evo quindi finalmente potete trovarsi anche sul sito ufficiale del gruppo dr e appunto da ieri siamo ufficiali e con con l'ufficialità ci hanno poi destinato uno stock di vetture arriveranno le evo 3 ma le evo 3 nella versione benzina e gpl che usufruiscono dei 2.000 euro di incentivo statale già hanno un prezzo molto basso e diventeranno praticamente imbattibili con questo contributo e a breve presenteremo faremo un bel porta aperte per la evo 5 che sta per essere presentata quindi grandi novità quest'anno si parte col botto e diamoci dentro diamoci un po' di vita vi aspettiamo numerosi vi ricordiamo anche il noleggio abbiamo il settore noleggi abbiamo leasing finanziamenti insomma potete acquistare la vettura contanti leasing finanziamento o noleggio la scelta è vostra nessuno vi obbliga a fare niente ma siamo qui per consigliarvi e spiegarvi bene il tutto a presto e alla prossima vi aspettiamo arrivederci ciao ciao benvenuti a bordo della tonale nella versione hybrid plug in hybrid quindi il nuovo motore da 280 cavalli in realtà il nuovo motore è riduttivo in quanto sono due motori un motore elettrico che spinge sulle ruote posteriori e uno anteriori il totale dei cavalli che eroga sono 280 cavalli può funzionare sia semplicemente in elettrico sia solo a benzina sia appunto con i due motori che vanno in parallelo e sviluppano il massimo della potenza ovviamente quando sviluppano il massimo della potenza la vettura diventa una trazione integrale quindi una vettura complessa e l'ideale per poter affrontare questi momenti partiamo intanto questi momenti di transizione insomma dove ancora non ci sono colonnine diffuse quanto si dovrebbe insomma quindi andare semplicemente e solamente in elettrico non è così facile specialmente per chi fa parecchi chilometri con una vettura ibrida si possono sfruttare entrambe le cose il motore elettrico funziona con per 50 60 chilometri dipende di inverno rende le batterie rendono un po' meno di estate un po' di più quindi bene o male posso sfruttarlo per gli spostamenti quotidiani arrivo in un posto da carico quindi posso arrivare fino a 100 km al giorno cioè un centinaio di chilometri al giorno di autonomia che sono più che sufficienti per la maggior parte delle persone questa è una versione speciale quindi abbiamo degli interni finiti al meglio abbiamo appunto questa pelle che ricopre il cruscotto con le cuciture color beige in questo caso che fanno pandan poi con quelle sul sedile che è pelle e tessuto il sedile è abbastanza volgente volante ovviamente di natura sportiva con l'appoggio per le dita teoricamente non bisognerebbe quando ho fatto i corsi di vendita mi hanno detto non bisogna mai staccare le mani dal volante anche nelle curve più impegnative qui ad esempio abbiamo un 90 gradi loro dicono eccola già l'ho staccato di fare scorrere in questo modo il volante ma senza mai lasciare una delle due mani l'auto già la conosciamo ma è sempre un piacere rivederla quindi abbiamo il frontale riconoscibilissimo e molto aggressivo quello che ormai penso che ognuno di voi abbia visto in strada arrivare e ne sia rimasto colpito come colpisce me abbiamo questo bellissimo frontale con i fari led e quindi il trilogo alfa romeo tradizionale e questo colore verde fantastico la vettura è la speciale quindi abbiamo poi una rifinitura tradizionale mentre invece come questo motore può essere poi montato anche sulle versioni veloce che sono il full option di gamma insomma il top di gamma allora 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 l'anno